La prima messa di giornata ha un gombanto dai janni, in tutto il settembre giorni usano per i cristiani. Sobbe nudi di tutto il ruggione e al di là, per pregare, ma soprattutto aspettano queste due vitture o piuttosto un tesoro che le libertano. Un tesoro guardato in questa valigia così prezioso che le costruite dai jandarmi. Ecco l'agui in 24 ore a Mahona Daligiani presentata ai velli. Ad arrivare a Piazza che dia a gioia, il tempo di una giornata. Davidea ha nontato a gioia. La Vergine Maria è stata attaccata a lei e è per questo che mi ha fatto il sforzo bebbene. A Mahona si è sempre venuta a bere, la ho l'auto esitata? Sempre. Non è stata che più ovo vita. e non è stata che più ovo vita. Non è stata che più ovo vita. Non è stata che più ovo vita. a messa onde giore mondo cine an cui biù e l'ora di a messa gantada sotta us guardu di a verdine e quello di Jesu bambino coeso di a rage copia di a maona ai Jani e verdine cine in ogni luogo che a zona di Uida è a vista più importante di a bieve Sandrine Kazayanca qui in a le Jani loto di Zitambra e di a vesti a bievo maio pe a le Jani loto di Zitambra e qui a nostra vest di tutto l'anno e qui a nostra maona è un gombanto tutto l'anno è una l'aria o museo per a giù ne se correda ma loto di Zitambra è un gombanto e per noi è assai assai importante a nostra maona è un amico a gomale di un tagui si sa che le ragui intorno ai 1500 ma è un'obera di un pittore italiano sano di Pietro che è a poco di un 20esimo zegolo si sa che c'è stato una evoluzione maio pezzo quadro perché qui c'è un frate che pregava a zero entezza e che o emonio l'ai assaltato l'ai averrido e a maona che l'ha curato che l'ha guarido è così che la maona è diventata miracolosa tanto in strumento ci sono storie e poi c'è la storia la storia la grande storia la grande storia e pareti i barretti episodi di la storia si sono passati di Guit e ci sono stati di barretti i barretti vat storie che ubrimo dunque per noi è a iunt a Yamaona o segondo è a la esterminazione di Johanali che ci sono stati castigate attraverso tutta a Gurs da Garbine Vina Kui e l'urti misomorti Guit in Alijani e poi buge il stadio l'incoronamento ideodor ubrè di Gurs e stadio vat ure Kui mtiazza ubrado gomeno imuno e Guit e dunque ci sono stati di barretti vat i maio di Astoria Gurs a Cui in Alijani Do Bames è ora di Brugessio con ridrat uguadro di Amaona portato a mezza i banquetti sin all'entrada di Ugampo di Ugumbanto Anugibane ste vestibida un serano vorse biueli stesse Pascal Ottavi Kui a Ugumbanto c'hanno i dravalli dagli a Pogo chi sa dava si tratta di un ristoro di ristrata dunque a iesha di Ugumbanto usoteto i rigori allendrento e di teore Ugumbanto come l'era storicamente dunque deriva l'ala volto San Petrone e infine deriva l'ala sottana ciò che chiamano l'el sud cu tutte l'anziane cellule di ibrati Tanto stai c'è l'elecana diventa allora i travali principiaranno normalmente d'ottobre qui o di novembre in tutti i casi non sa natale ciò contato poco presso gli anni cui è sempre vista da poi giung a fine se sottana torna a vestire così durante i travagli o non mentre l'uomo è un cantiere ci sono condizioni di seguretà che l'uomo rispettà e quando ci saranno i travagli indi già è non d'autetto ben inteso che l'uomo era di seguretà il pubblico ci ne scusiamo che buonan su variante con la popolazione che sono qui i so biti Bultà festidia l'otto i settembre augun banto anugibane di siguro una brega ravatta da pariti veli a اب a a a a a a